Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta con Prima Fila, questa nuova edizione Generazioni a confronto. La musica diverrà anche protagonista in questa edizione di Prima Fila. Iniziamo con un giovane, però che ci porta indietro negli anni. Si chiama Cody e ci fa ascoltare un successone, sto parlando di Non son degno di te. Loro sicuramente la conoscono, ma la conoscono anche loro. Cody! Non son degno di te, non ti merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te. Ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Amor! Non son degno di te, non ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per me. Non son degno di te, non ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore. 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 Sono degno di te.